non sto nella pelle per l'argomento di cui andiamo a parlare che è un argomento scomodo perché parleremo di problemi, i problemi non li vuole nessuno, né gli sviluppatori né soprattutto i giocatori ma è assolutamente indispensabile parlarne perché i giochi piacciono a tutti quanti noi però i pc sono degli oggetti complicati e purtroppo devo constatare che pc e videogame sono diventati un argomento un po' come il calcio insomma tutti ne parlano a parole siamo tutti bravi tutti allenatori ci sentiamo in grado di decidere le strategie di allenare le squadre però poi vorrei vedere se tutti quelli che ne parlano al bar sarebbero davvero in grado di farlo e purtroppo l'informatica in generale diventa sempre più questo tipo di argomento in cui tutti credono di essere esperti ma all'atto pratico le cose sono abbastanza diverse da come gli utenti le immaginano quello che dirò in questo video non viene soltanto da un ventennio di esperienza lavorativa come sviluppatore ai quali si potrebbero aggiungere tanti altri anni come studente e come hobbista prima che la mia passione diventasse una professione ma nel mio curriculum posso vantare anche un paio di annetti buoni di esperienza come overclocker e ci metterò anche un 5 anni buoni di esperienza in un'azienda in cui ho rivestito il ruolo di team manager e forse bisognerebbe anche citare qualche anno di esperienza come assemblatore di pc e anche come progettista di hardware sim racing insomma ci ho provato per un paio di annetti prima di lasciar perdere però anche di questa esperienza posso fare tesoro quando parlo di determinati problemi tutto questo ovviamente non per vantarmi ma per farvi insomma un po' capire il mio background quando vi rispondo quello che voglio fare in questo video è darvi una rassegna di problemi che mi sono presentati in questi anni problemi che mi sono stati rivolti ovviamente da voi utenti e che insomma hanno trovato una risposta qualcuno di questi problemi sembrava particolarmente misterioso qualcuno devo dire ha causato anche un po' di attrito tra l'utente e il sottoscritto sviluppatore perché l'ottica da cui un profano ed un tecnico vedono le cose è per forza di cose diversa sperando che questi problemi vi tornino utile quando magari li avrete anche voi quindi potrete magari guardarvi questo video e magari potete trovare proprio la soluzione al vostro specifico problema comincerò con lo spiegarvi perché alcune cose che gli utenti danno per scontate ma veramente assolutamente per scontate in realtà tecnicamente sono sbagliate quando si parla di un gioco del 2004 come RBR sebbene non sembri la preistoria tuttavia per l'informatica è la preistoria cioè quando è uscito il gioco c'erano i monitor 4 terzi a tubo catodico si cominciavano a vedere sul mercato i primi LCD e la periferica insomma più avanzata che si potesse immaginare era un Logitech G27 all'epoca chi possedeva un volante o addirittura una postazione per la simulazione di guida era davvero un privilegiato insomma ne esistevano veramente pochissimi di questi individui non c'era YouTube non c'erano i social non c'era niente di tutto quello che oggi diamo praticamente per scontato quindi pensate che quello che stiamo ancora giocando oggi è un gioco che viene da quell'epoca ora gli utenti che non sono addentro all'informatica quando parlano di RBR lo paragonano molto frequentemente ai giochi moderni e uno dei luoghi comuni cioè una di quelle cose che per voi sono assolutamente scontate è che se il vostro hardware non ha problemi con un gioco moderno allora non deve averne anche con RBR perché avete questa convinzione? perché considerate i simulatori moderni come degli oggetti molto più complessi rispetto ad uno vecchio come RBR quindi il modo in cui ragionate è il seguente se la mia scheda grafica non ha problemi con assetto corsa competizione oppure con Racerum allora non deve averne neppure con RBR se il mio volante o il mio cambio funziona bene con Dirt Rally 2 allora deve funzionare anche con RBR questo potrebbe sembrare assolutamente scontato ma io andrò a spiegarvi per quale motivo non lo è e allora cominciamo con il caso numero uno problema hardware arriva un utente il quale ha assemblato un proprio cambio basato su una scheda Arduino e mi pone il seguente problema io ho costruito questo cambio e tutto funziona benissimo con assetto corsa e anche con altri giochi moderni però in RBR non funziona quindi probabilmente il tuo simulatore avrà dei problemi e vado a spiegare il motivo per il quale invece l'utente si sbagliava e come è stato risolto effettivamente il problema per rispondere all'utente ho fatto tesoro di quella che è stata la mia esperienza come assemblatore di periferiche simracing dove spesso mi trovavo ad assemblare delle periferiche con dei componenti che compravo per la maggior parte dalla Cina quindi era materiale elettronico relativamente economico quindi spesso e volentieri c'erano delle cose difettose per esempio degli switch che facevano dei falsi contatti oppure che causavano attivazioni multiple quindi cosa succedeva? succedeva che io magari andavo ad assemblare un cambio e avevo un potenziometro difettoso o magari avevo uno switch che non si attivava si attivava a volte sì a volte no o magari si attivava più volte a fronte di una singola attivazione l'utente infatti mi spiega che il problema è proprio il fatto che l'attivazione del cambio causa delle cambiate multiple quindi quando scala si scalano a volte una marcia a volte due è naturale che quando spiegate questo problema ad un tecnico il tecnico immediatamente penserà ad uno switch difettoso invece l'utente che cosa fa? fa il ragionamento ma se funziona con assetto corsa perché con RBR non funziona? e qui entra in campo il software il bravo sviluppatore software sa che i giochi moderni implementano delle protezioni da questo tipo di difetti sono delle protezioni di tipo software cioè sostanzialmente vanno a rilevare l'intervallo di tempo delle cambiate e in assetto corsa abbiamo un parametro che è proprio relativo a questo questo parametro ha un valore minimo ed un valore massimo e noi possiamo addirittura regolarlo al piacimento e praticamente con questo parametro noi diciamo che se vengono dati due impulsi di cambio ad una distanza inferiore a tot millisecondi il secondo impulso verrà ignorato questo perché con le nostre mani quando attiviamo una leva del cambio una paletta di un volante o qualsivogli altro controllo noi non siamo in grado di trasmettere due impulsi a distanza di 5-6 millisecondi non riusciamo a essere talmente veloci quindi per il software è chiaro che quando arrivano due impulsi in sequenza a distanza di meno di 10 millisecondi il secondo impulso è da considerarsi come un errore e quindi può essere ignorato in questo modo i giochi moderni riescono a prevenire alcuni difetti di tipo hardware dopo questa cosa che vi ho spiegato starete arrivando da soli al fatto che rbr proprio perché un gioco così vecchio non ha questo tipo di protezione di conseguenza un hardware effettivamente difettoso può risultare assolutamente funzionante in assetto corsa ma purtroppo con rbr il suo difetto hardware verrà assolutamente alla luce quindi vi ho appena spiegato uno dei motivi per il quale la convinzione dell'utente che la periferica che funziona con assetto corsa deve necessariamente funzionare anche con rbr è assolutamente errata e su questa scia andiamo a considerare uno dei problemi che si presentano molto molto frequentemente con rbr che è la perdita della configurazione dei comandi vediamo perché questo succede e se è possibile prevenirlo allora per quale motivo i comandi non mi si sconfigurano mai con assetto corsa mentre rbr sembra spesso impazzire e non mi riconosce più le periferiche il motivo dietro è il seguente i simulatori moderni a differenza di rbr implementano delle logiche di recovery cosa vuol dire? vuol dire che spesso sono in grado di riconoscere una periferica anche se io cambio la porta usb anche se magari la collego ad un hub e addirittura sono in grado di tollerare delle disconnessioni momentanee della periferica durante il gioco cosa vuol dire? vuol dire che se io mentre sto giocando ho un blackout di qualche millisecondo o addirittura di qualche secondo della periferica il gioco è in grado di recuperare da questa cosa e di ridarvi immediatamente il controllo della situazione ecco rbr non ha tutto questo cosa vuol dire? vuol dire che rbr potrebbe essere fortemente messo in crisi da un hub usb che non funziona o anche da una periferica che ha semplicemente cambiato la sua porta o magari da un driver che non funziona esattamente come dovrebbe e potete constatare facilmente da soli che il gioco azzera la propria configurazione dei comandi a qualsiasi minima disconnessione di una periferica quindi immaginiamo questa situazione immaginiamo che voi utilizzate un cambio sequenziale ed un cambio ad h ad un certo momento state guidando con il cambio sequenziale ma il cambio ad h che voi non state utilizzando subisce una disconnessione cosa succede? succede che mentre state giocando a causa della disconnessione del cambio ad h resetterà tutta la configurazione dei comandi anche se del cambio ad h in quel momento non ne state facendo uso diciamo che questo è essenzialmente un problema software ma viene spesso combinato con problemi di tipo hardware e questi problemi si verificano quasi sempre a causa di hub usb economici che risultano difettosi cioè gli utenti cosa fanno? comprano un hub usb magari cinese magari spendono 10-20 euro e sono convinti poi di poter collegare un certo numero di periferiche a quell'h hub senza farsi troppi problemi se quest'h hub sia alimentato esternamente se l'eventuale alimentatore esterno sia in grado di fornire l'amperaggio sufficiente per alimentare tutte le periferiche connesse a quell'hub quindi considerano semplicemente l'hub usb come una multipresa al quale posso collegare senza badarci troppo qualsiasi cosa e dovrà funzionare bene questo è un errore che gli utenti fanno e che io ho sperimentato sulla mia pelle diverse volte che porta a sicuri problemi con RBR perché appunto questo gioco non tolera la benché minima disconnessione di periferica mentre la disconnessione passa assolutamente inosservata all'assetto corsa per RBR invece si rivela essere un problema fatale che causa il reset della configurazione dei comandi che può avvenire tranquillamente anche mentre state giocando magari siete in una gara online quindi quando l'utente mi presenta questo genere di problema quindi ovvero perdita della configurazione dei comandi necessità di dover riconfigurare i comandi ogni volta che si avvia il gioco perché il gioco perde la configurazione la mia risposta lascia spesso l'utente allibito perché io consiglio di spendere tanto in un vero hub usb che funzioni a dovere e vi garantisco che ci sono degli hub usb anche molto molto costosi e adesso vi mostrerò il mio questo è un hub usb che ha un prezzo notevole ma da quando ho questo hub assolutamente nulla si è mai disconnesso dal mio pc per anni ho utilizzato degli hub economici e avevo continui problemi di disconnessione di periferiche non solo di volanti e di cambi ma anche di telecamere e insomma di tante altre cose perché io utilizzo l'hub usb per tantissime periferiche e anche per la tastiera con cui mi piace suonare e io vi assicuro che adesso tutto quanto è connesso a quest'hub che è un hub usb 3.0 e voi mi chiederete ma perché usb 3.0 anziché 2.0 non serve giusto se le mie periferiche sono usb 2.0 a cosa mi serve un hub usb 3.0 bene mi serve a questo serve perché le specifiche dell'usb 3.0 stabiliscono dei minimi di amperaggio per ciascuna porta più elevati di conseguenza l'hub usb 3.0 ha anche un'alimentatura esterno più potente perché deve essere in grado di gestire più periferiche usb 3.0 connesse contemporaneamente e dunque questo mi dà una maggiore protezione contro le disconnessioni perché le disconnessioni sono quasi sempre causate proprio dal fatto perché le disconnessioni sono quasi sempre causate proprio dall'amperaggio insufficiente dell'alimentatore ora è assolutamente vero che alcuni dei problemi di disconnessione di periferiche in RBR possono essere prevenuti per altre vie e ci sono anche dei problemi legati a volanti specifici che possono essere risolti magari con interventi su registri e quant'altro però io non raccomando nessuno di questi interventi sia perché sono rischiosi sia perché la maggior parte delle volte si può prevenirli ancora una volta utilizzando un buon hardware quindi si può prevenire la malattia anziché poi dover andare a curarla in maniera strana ed ora veniamo invece ai problemi relativi all'hardware del pc quindi sostanzialmente parliamo di problemi di freeze e problemi di texture impazzite magari texture sbagliate texture nere o lampeggianti insomma cose di questo genere o anche di cali di framerate che si verificano in determinati punti specifici del gioco caso reale un utente viene da me e dice guarda io ho un problema che mi si verifica sempre nello stesso punto di un particolare stage e succede che in quel punto comincia a calarmi il framerate finché diventa impossibile giocare perché da 120 fps mi scende a tipo 20 10 e quindi diventa impossibile giocare sono sicuro matematicamente dice l'utente che il problema è di quello stage e non può essere del gioco perché il mio pc funziona benissimo con tutti gli altri giochi gli utenti diranno sempre che il loro pc funziona benissimo con tutti gli altri giochi e male con rbr e anche questo utente è assolutamente sicuro di quello che sta dicendo e quando alla fine io mi collego al suo pc faccio tutte le analisi e tutte le verifiche del caso e alla fine gli consiglio di andare da un tecnico e di farsi monitorare il pc perché deve avere un problema di tipo hardware l'utente non mi crede e pensa che sostanzialmente io sono un incompetente che voglia prenderlo in giro dopo qualche giorno l'utente mi scrive e mi dice quanto segue premessa si tratta di un utente fortunato perché ha sia il tempo sia diciamolo i soldi per prendere il proprio pc smontarlo e portarlo ad un laboratorio di assistenza non tutti hanno questa pazienza non tutti hanno questa voglia e anche i soldi per pagare un eventuale tecnico quindi mi rendo conto benissimo di quanto rognosi possano essere questi problemi per chi non ha il tempo la voglia o i mezzi per risolverli dunque l'utente porta il pc al laboratorio di assistenza dopo qualche giorno il tecnico gli dice quanto segue ho analizzato il tuo pc e il problema è che la tua scheda video dopo qualche dopo un certo periodo di tempo che tu stai giocando ha la gpu che si surriscalda e di conseguenza impazzisce quindi ti comincia ad andare in throttling si chiama cioè quel comportamento in cui quando la temperatura di un componente hardware sale troppo la scheda comincia ad abbassare gradualmente le prestazioni per fare in modo che la temperatura ritorni alla normalità questo si chiama throttling ed è proprio questo che stava succedendo all'utente cioè per quale motivo l'utente aveva quel problema sempre in quel punto di quel determinato stage il problema si verificava quindi perché lo stage era lungo 13 km e proprio per questo su tutti gli altri stage che erano più corti non si verificava perché la gpu veniva utilizzata per meno tempo quindi facevi i tuoi cinque sei minuti poi smettevi di giocare quei cinque sei minuti non erano sufficienti a far salire la temperatura della gpu oltre il livello critico invece in uno stage di 13 km succedeva che al dodicesimo chilometro quindi verso la fine la temperatura della gpu saliva oltre il dovuto a quel punto cominciava il throttling ed il frame rate veniva assolutamente compromesso gioco assolutamente ingiocabile ovviamente questo è successo all'utente mentre giocava online l'utente si è scagliato contro di me evidentemente le mie risposte sono state percepite dall'utente come quelle sì di uno sviluppatore però magari che non ci capisce tanto di hardware questo perché al punto ormai molto comune che gli utenti si sentono assolutamente in grado di capire quale problema ha il proprio pc che non ascoltano assolutamente le indicazioni dei tecnici non rispettano le nostre figure professionali e di questo ne ho fatto esperienza nei cinque lunghi anni che punto in cui ho lavorato come team manager di un'azienda dove appunto uno dei miei ruoli fondamentali era proprio quello dell'assistenza tecnica diciamo ai dipendenti dell'azienda i quali la maggior parte delle volte quando gli veniva fornita una spiegazione tecnica ti guardavano come se gli stessi facendo una supercazzola all'inizio di questo video vi ho detto che ho avuto anche un bel po di esperienza come overclocker e vado a spiegarvi perché questa esperienza è utile allora partiamo da questo presupposto l'overclocking è il classico sport da nerd che non consiglio davvero a nessuno lo considero sostanzialmente un'emerita abbagianata tuttavia per chi lo fa diventa in qualche modo didattico quando non è una droga da cui è difficile ribellarsi perché vi insegna tantissimo su come rispondono i componenti hardware in condizioni di sovra o sotto voltaggio e di chiaramente temperature fuori dalla norma quindi vedere gli effetti di una gpu impazzita perché l'hai overclockata ti fa capire meglio i problemi che può accusare una gpu difettosa oppure una gpu che appunto è stata overclockata da un utente che pensa che l'overclock è una cosa che possono fare tutti complice anche il fatto che è molto facile scaricarsi un programmino per fare overclock come può essere afterburner e cominciare a giocare con l'overclock con la scusa del fatto che il produttore della scheda video vi ha stabilito dei limiti entro i quali l'overclock è considerato sicuro e quindi potete tranquillamente farlo insomma tutte assolute bagianate che non esistono perché nella pratica l'overclock è assolutamente questione di fortuna cioè se voi siete fortunati e vi capita il chip buono allora riuscite tranquillamente a overclockarlo però ci sono anche dei chip che non reggono nemmeno un po' di overclock e di conseguenza anche l'overclock che il costruttore considera sicuro in realtà sta causando un problema e quindi veniamo all'ultimo caso reale che mi si è presentato proprio ieri con un utente che ha accusato problemi di texture nere nel gioco cioè mentre giocava ad un certo punto le texture sono diventate nere e lui praticamente fluttuava nell'aria non vedendo più queste texture insomma non vedeva più la strada diciamo bene questo problema lo riconduco ad un problema che io ho avuto anni fa sempre con rbr relativo a delle schede video che io torturavo massacravo con l'overclocking e insomma proprio quando vedevo che la temperatura della gpu saliva oltre una certa soglia la gpu cominciava ad avere dei comportamenti strani e magari mi generava proprio dei problemi simili a questo questo problema è ancora aperto l'utente me l'ha posto ieri e naturalmente la mia risposta non è stata accettata dall'utente il quale ha ritenuto che doveva ancora una volta essere assolutamente un problema del gioco non può essere un suo problema hardware perché la sua gpu funziona benissimo con gli altri giochi soltanto che la cosa va analizzata in maniera più approfondita perché infatti poi quest'utente mi dice che sta utilizzando framerate molto elevati con rbr e cosa potrebbe succedere potrebbe succedere che proprio per il fatto che l'utente ha un monitor a 165 hertz e non sta in alcun modo limitando il framerate del gioco che io consiglio di limitare comunque a 144 ma anzi meglio a 120 insomma perché 144 sono rischiosi con rbr non dimentichiamo che rbr ha avuto fino all'anno scorso un problema proprio relativo all'utilizzo del gioco con 144 hertz si chiamava il cosiddetto one hour bug cioè il bug di un'ora ed era appunto un bug che avevano soltanto utenti che utilizzavano il gioco a 144 hertz che praticamente dopo un'ora vedevano il gioco calare progressivamente di framerate fino a bloccarsi questo bug è stato risolto soltanto l'anno scorso ma io non giurerei assolutamente che sia l'unico bug relativo all'utilizzo del gioco a frequenze di refresh così elevate per cui io posso dirvi che a 120 hertz il gioco si comporta bene questo è sicuro per cui sinceramente io non vedo motivo di mandare il gioco a frequenze di refresh superiori a 120 hertz quindi alla fine questo ultimo problema anche se ancora aperto io lo classifico assolutamente come un problema hardware dell'utente quindi l'utente dovrà capire se la sua scheda video che lui ritiene funzionante in realtà non sia difettosa e se magari proprio l'utilizzo ad un framerate così elevato non sia la causa che sta facendo schizzare sulla temperatura della gpu fino a farle avere dei problemi ora il fatto è che l'utente ha avuto due volte il problema sempre sullo stesso stage ma il giorno dopo ha ripetuto lo stage i problemi sembrano spariti ora il problema qui è la modalità di test perché mentre stava giocando online magari stava già giocando da due ore magari si era riscaldato prima di andare online e quindi la temperatura della sua gpu era alta il giorno dopo quando è andato a fare il test è partito a gpu fredda e non ha riscontrato il problema magari dovrebbe giocarci per due ore per capire se effettivamente esiste un problema legato alla temperatura quindi insomma concludo spiegandovi che purtroppo nell'informatica non tutto è ciò che sembra e è molto facile che gli utenti diano la colpa ad un aggiornamento diano la colpa al gioco piuttosto che incolpare il proprio hardware anche perché diciamo chiaramente molte volte l'utente non ha né la voglia e né i mezzi per far fronte ad un problema hardware purtroppo tante volte è proprio questo che occorre fare per quanto riguarda una mod come può essere rbr pro dovete tener presente che gli sviluppatori non sviluppano il gioco ma sviluppano intorno al gioco nulla relativo alla grafica potrà cambiare l'utente stamattina mi ha detto che vorrebbe verificare se il problema non è di peso da file corrotti ma vi dico che un tecnico a differenza di un utente conosce benissimo la casistica relativa alla possibilità della corruzione dei file ed è portato ad escludere a priori la possibilità che il problema sia causato da un file corrotto perché in caso di file corrotto ci dovrebbe essere un blocco durante il caricamento in quanto il programma non è più in grado di leggere il formato del file che sta caricando quindi si dovrebbe verificarsi qualcosa come può essere un crash del programma e inoltre il tecnico sa che il file corrotto non è mai una casistica isolata che si verifica una tantum ma quando si verifica ha un impatto pesante su tutto il funzionamento del pc quindi per quanto mi riguarda la probabilità del file corrotto è dello 0,000000 insomma metteteci una decina di zeri e poi un 1 questa è la probabilità del file corrotto se non addirittura 0 assoluto concludo raccomandandovi il giusto atteggiamento psicologico quando vi si presenta un problema atteggiamento che non deve essere mai quello di dare la colpa al gioco perché così facendo vi allontanate dalla soluzione del problema cioè prima ricercate la causa nel vostro hardware e nel vostro pc dopo di che se insomma viene scartato tutto quello che è relativo all'hardware allora magari può essere qualcosa dovuto al gioco e ricordate che i problemi del gioco quasi sempre non riguardano un solo utente ma riguardano o tutti gli utenti o magari una determinata fetta di utenti che possiede un certo hardware come può essere la stessa scheda video oppure lo stesso volante ok i problemi del gioco sono quasi sempre questo naturalmente vi invito ancora una volta a supportare il mio lavoro tramite la mia pagina patreon che vi lascio in descrizione e vi invito naturalmente a iscrivervi al canale cliccando sulla campanella qui sotto ciao ciao da Carlo